Una affollata riunione, quella svoltasi nella sede provinciale dell'ENS, promossa dall'ENTE, presieduto da Francesco Di Maio e da Luigi, l'Unione Italiana Cecchia e di Povedenti, che hanno così incontrato i genitori degli 80 alunni non vedenti e audiolesi della provincia per discutere dettagli all'assistenza extrascolastica. Un servizio a carico della provincia, sospeso a causa della mancanza dei fondi, ma che risulta essenziale per gli aventi diritto. Tra i presenti è anche un gruppo di consiglieri comunali che hanno sposato la causa e che intendono chiedere l'intervento dei deputati regionali. Ho chiamato ieri l'assessorato alla famiglia, mi hanno detto che nel giro di 5-6 giorni arriveranno dei fondi alla provincia di Caltanissetta e quindi ci fa sperare questo che speriamo che la prossima settimana parta questo servizio. Nel frattempo abbiamo chiesto un incontro col commissario e col prefetto, quindi attendiamo a giorni che ci venga comunicato quando saremo ricevuti. Se la prossima settimana sappiamo che i fondi sono arrivati e ancora tarda a partire il nostro servizio, allora come vi avevo detto già in precedenza, noi con gli 80 bambini saremo alla provincia a fare questa battaglia e speriamo che tutti voi sarete vicino a noi a sostenerci, a sostenere questa battaglia. Un enorme disagio causato agli aventi diritto che si ripercuote anche sul bilancio familiare. Significa che noi dobbiamo andare a pagare alla professoressa per fargli studiare i bimbi, per ora abbiamo pagato di tasca nostra, fino a tempo fa c'era il servizio, ora non c'è più, è una mancanza che viene al bimbo, un disagio per l'intera famiglia pure, anche economico, per aiutare il bimbo per non lasciarlo indietro negli altri compagni. Allora, intanto io sono un genitore di una bimba pluriminorata che è videolesa pure, ha la sindrome di Down ed è videolesa, quindi la difficoltà è maggiore. Allora, noi abbiamo parlato fino ad ora che praticamente la scuola è un obbligo, la scuola è l'obbligo per i bambini, quindi di conseguenza il diritto allo studio in questo momento a mia figlia viene tolto, perché giustamente l'insegnante che il pomeriggio si occupava di rafforzare il lavoro che veniva fatto a scuola, praticamente viene a mancare, quindi viene a pesare praticamente sulle famiglie. La mia bambina quest'anno inizia la prima elementare, quindi ben capite che giustamente abbiamo un approccio con una nuova scuola, con i nuovi compagni, con nuovi insegnanti. La vecchia insegnante, diciamo l'insegnante che era nella scuola materna, se la sarebbe portata pure alla scuola elementare, quindi li avrebbe fatto da supporto. Però purtroppo tutto questo è venuto a mancare, cioè noi abbiamo iniziato a settembre con tutti questi tagli che ci sono nelle scuole ad avere ora e meno sia a livello scolastico che è a livello diciamo provinciale come l'insegnante che viene a casa, che arriva a casa.